Con Antonio Zagarese andiamo a riscoprire gli ex cantieri Rodriguez che sono in provincia di Savona. Vediamo. È un insediamento ingombrante per il paese, quindi io sono cresciuto con questa struttura, con questa industria e mi ha sempre affascinato. Da qui è nata l'idea di farne qualcosa. Qualcosa è un film documentario tra gli scheletri degli ex cantieri Navali Rodriguez, 46.000 metri quadri, adagiati sul litorale di Pietraligure nel Savonese. L'incontro del pietrese di adozione Massimo Ciricillo con l'artista e fotografo torinese Max Tomasinelli. Siamo partiti con un'idea più semplice, quella di fare un documentario classico per il paese e per conservarne la memoria, perché fra poco qua non ci sarà più niente. O meglio, ci sarà qualcosa di nuovo che non avrà niente a che fare con i cento anni di storia. L'approccio è stato assolutamente quello di incontrare le persone che avessero a qualche titolo lavorato dentro il cantiere. Quindi abbiamo proceduto seguendo sia una direzione di archivio, raccogliendo materiali storici, sia intervistando persone, appunto lavoratori, dipendenti, dirigenti e anche i figli di uno dei patroni di questo posto, Ignazio Messina. Il progetto di riqualificazione dell'area fermo al palo approvato manca l'investimento della proprietà intermarin. Uno spazio non ancora restituito alla comunità, ma vivissimo nella memoria. Accennavo spesso a quello che fosse, negli anni 30, 40, 50, la vita delle persone, anche perché quegli anni sono stati gli anni in cui qui dentro lavoravano oltre mille persone. Il che significa che quasi tutte le famiglie avevano qualcuno che in qualche forma lavorava dentro il cantiere. Storie, potete immaginarvi, 100 anni di vita di una fabbrica, è partita nel 1916, quindi anni incredibili dove gli uomini erano dei superuomini per quello che facevano, perché non c'era la tecnologia di adesso. Quindi da lì siamo partiti e veramente è stato uno scoprire episodi sempre più interessanti. Lavoratori, uomini, tutti licenziati o in cassa integrazione dal 2007, anche la loro storia riviverà nel film Fuori Onda. Un protagonista, la voce alla radio di Maurizio Di Maggio, racconta questa storia. Abbiamo poi deciso una porzione di fiction, quindi ci siamo inventati un personaggio che ci condurrà dentro il film e sarà il nostro filo conduttore, e sarà l'escamotage per tirare fuori il materiale storico che abbiamo raccolto. Qui Radio Camede, 358esimo giorno. Prodotto dall'Associazione Culturale ILM e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pietraligure, il team intorno al progetto è cresciuto. Regista, sceneggiatore, tecnici, la colonna sonora di Remo Anzovino, già risuonata nel teatro comunale gremito per la presentazione del progetto, che prevede anche la realizzazione di una mostra multimediale e un libro, tutto entro la fine del 2018. Questo è un contenitore meraviglioso per come è ora già, è semplicemente abbandonato, è un'area dove succederà qualche cosa di cui ancora non sappiamo molto, ma certamente è un'occasione per riempire un vuoto gigantesco con qualche cosa che noi speriamo possa essere cultura o comunque qualche cosa che possa riportare la gente di Pietra a venire qua, a stare qua, come condivisione, come didattica, come spazi per i bambini, quindi qualsiasi cosa che possa ricordare in una forma attiva la grande memoria di condivisione che è stato il cantiere quando era attivo.